buonasera buonasera benvenuti a tutti di solito corre l'obbligo in questi casi ma molto volentieri di ringraziare lo sponsor prima di tutto che è appunto Marco Ling fatto questa cosa necessaria io dico che con grande gioia sono qui per parlare di questo nuovo libro con l'autore Alessandro Piperno nel 2005 credo lontano ma non tantissimo facciamo qualcosa del genere con le peggiori intenzioni chissà secondo me questo è anche più bello però con l'imbarazzo quasi di chi deve parlare molto bene di un libro e sembra che lo faccia per mestiere perché chi sta a presentare un libro di solito non deve parlare bene a mia parziale discolpa almeno che non si sospetti di quello sono 7-8 anni che non pubblico un libro con Mondadori e non ho neanche prospettive di lavorare con loro per cui tutto quello non me ne viene assolutamente nulla e detto questo è un libro che cattura piano piano però dopo non molla più e quando si arriva alla fine si ha la sensazione di aver letto un libro di aver letto un romanzo di quelli che cercano e lasciano un senso poi ne parleremo di quale secondo me ma prima di tutto avviciniamo la storia che viene raccontata attraverso alcune notazioni alcuni passaggi il fatto di quando si inizia a leggere il libro subito si viene sorpresi da una lingua che non è frequente appunto nei romanzi che leggiamo di solito perché è una lingua molto elaborata sembrerebbe quasi un po' indietro nel tempo come cadenza però questa cosa io ho anche scoperto permette delle finezze di annotazione psicologica di annotazione ambientale che di fatto una lingua molto più diciamo diretta che magari prende di più dal punto di vista della cadenza del ritmo narrativo si perde ed è un sapore che in fondo è anche bello risentire detto questo all'inizio c'è un po' di spaesamento proprio perché la storia sembra essere quella nel senso che il ragazzino che ha una diciamo problema di identificazione o di rapporto rispetto o di conoscenza di capire chi sono i genitori però subito c'è questo splendido break che presenta il padre come un personaggio diciamo che ha una sua scintilla con l'episodio appunto il ragazzo è stato punito o sa che sarà punito siamo alle prime pagine non si sente di tornare a scuola perché sa che corrisponderà alla punizione e mentre la madre chiaramente professoressa a sua volta vuole assolutamente che lui vada a scuola è il massimo per la madre che lui sia ligio faccia i compiti prenda bei voti il padre con un colpo di bizzarria gli dice guarda oggi facciamo festa andiamo via lo porta all'argentario da quel che ho capito più o meno lì no lo porta su una spiaggia stanno lì a guardare quella spiaggia quel mare e il bambino non capisce niente di quel che sta succedendo secondo me il perno poi è quello di tutta quanta la vicenda perché non riesce a godersi questo momento questo momento che poi riconoscerà essere un momento straordinario di scintilla vitale del padre che avrebbe dovuto riconoscere il bambino stesso di questo momento farà tesoro ma sarà un tesoro sarà un seme che non riuscirà a far esplodere non riuscirà a fargli avere significato in quel momento lo otterrà come una colpa quasi questa stessa spiaggia la ritroviamo io ho avuto un preprint che non era nel mio preprint questa stessa spiaggia la ritroviamo 360 pagine dopo e avrà un significato molto grande nel libro non so se raccontare la trama perché è un libro bello poi si può raccontare anche la trama e non cambia molto però insomma c'è un evento ci sono due eventi fondamentali che si possono dire che danno poi fanno ingranare tutto il meccanismo la scoperta di non essere quello che crede di essere lui crede di essere il protagonista crede di essere figlio di questo padre un po' scombinato che non gli sono date benissimo le cose nella vita che rispetto alla madre è disordinato e inaffidabile quasi e di una madre che invece rappresenta la legge addirittura mosaica quella della perfezione eccetera eccetera però vivono in un modesto appartamento di semiperiferia va in una scuola più che normale lui pensa di avere una vita come i suoi amici come tutta quanti quelli che conosce di questo tipo piccola piccolissima borghesia anzi a causa della situazione della scombinatezza del padre anche con qualche problema economico scopre quando chi è veramente e nell'occasione di una riunione appunto familiare della famiglia dalla parte della madre e scopre che in realtà la madre appartiene a un mondo tutto diverso un mondo ebraico di schiatta ma soprattutto un mondo ricchissimo un mondo dove si vive in una maniera assolutamente raffinata assolutamente diciamo libera da impedimenti non solo economici ma di grande anche come dire esaltazione dell'io si potrebbe dire mentre lui no il suo io è tutto contratto e il secondo avvenimento chiaramente anche questo basilare per tutto importante per tutto è che il peggiorare della situazione del padre genera una separazione rispetto a quella insomma adesso è una storia di assumertutto lui esce dalla sua camera sentendo litigare i genitori e in quel momento accade una cosa che lui non ha visto veramente e la madre precipita dal pianerotto al terrazzino e muore e non si sa se il padre sia stato in qualche modo colpevole di questa cosa sempre la colpa o se sia stato un suicidio poi per momento un incidente un incidente anche se in realtà non lo tematizzo perché però può essere stato alla fine ci arriveremo perché alla fine c'è questa cosa non è vero che la colpa può anche non esserci però questo determina di fatto la pressione anche più o meno esplicita della famiglia potente di lei il padre finisce in galera quasi scompare fino a un certo punto e questo ragazzo viene non solo preso in carico insomma dalla famiglia di ricchissimi semi adottato da questo zio Gianni ma addirittura cosa significativa cancella anche il cognome diciamo del padre prende il cognome dell'altra famiglia e comincia una vita di agio, di ricchezza, di benessere straordinario che però sarà una vita sempre segnata dalla paura di essere scoperto il complesso dell'impostore insomma potremmo dire smascherato ci fermiamo qua perché sennò parlo sempre io invece è il momento di lo sviluppo di questo romanzo viene per passaggi che non sono scontati cioè dove c'è sempre un riprendere quello che è stato in qualche modo scritto e creare nuove risonanze per poter aumentare poi l'effetto di conoscenza dei protagonisti cosa significa lavorare? cosa significa questo? lavorare come? come si lavora in questo modo? innanzitutto lascio che ti ringrazio delle bellissime parole della bellissima presentazione e poi direi sostanzialmente questo cioè un regista che amo molto forse regista vivente che insieme a Tarantino amo di più che è P.T. Anderson che recentemente in un'intervista le poche che concede che ho visto se non sbaglio quello su YouTube diceva una cosa che mi sembra il sale di tutto e cioè che lui dice quando lui è anche sceneggiatore dei suoi film dice quando io scrivo un film la prima cosa che mi impongo è di rifiutare qualsiasi forma di prevedibilità cioè la prevedibilità è nemica dell'arte narrativa e e questo significa che quando tu per esempio guardi le orrende serie su Netflix che ormai le fanno io mi diverto così con l'animo da sceneggiatore di capire tutto quello che lo sceneggiatore in modo piuttosto cinico e anche maldesto dissemina dice ecco qui adesso qui arriva questo personaggio che noi che servirà per questo determinato sviluppo no sai quella famosa frase che viene attribuita non sia a Chekhov che a Hitchcock secondo cui in una sceneggiatura se c'è una pistola alla fine deve sparare ecco per me è l'esatto contrario se c'è una pistola è meglio se non spara come la pistola degli indifferenti alla fine non spara ecco ho lavorato molto sulla struttura di questo libro per fare in modo di disseminare dei segni che sono poi in realtà dei segni che porteranno altrove e è il mio modo di lavorare quello di sebbene abbia in mente la bussola cioè dove sto andando quello di non costruire una struttura prima in modo tale che io sia il primo a essere sorpreso di fronte per esempio l'apparizione dicevi di quella spiaggia che in realtà sembra preparata dalla spiaggia iniziale in realtà è un effetto prodotto diciamo dall'imprevedibilità dall'imprevisto cioè mi sono trovato lì e mi è sembrato che fosse una chiusura del cerchio interessante però giocata in maniera tale che chi legge dice quella non è quella e quella non è quella già quando ci sta arrivando nel senso che poi quando arriva l'imprevisto poi lo costruisci in modo che l'imprevisto non sia così Deus ex machina ma che sia giustificato diciamo diciamo che poi il problema di questo lavoro infernale e lo sai bene è il fatto che poi alla fine tutto va lavorato in un modo tale che sembra imprevedibile ma che non sembra gratuito e quindi ci vuole anche insomma quello che Giacomo De Benedetti chiamava il ritmo di fatalità che mi pare che si possa attribuire a questo libro ho cercato di imprimere un ritmo di fatalità alcuni lettori mi hanno detto che che il libro ti trascina e non sai bene perché anche perché fino a un certo momento non avviene niente probabilmente perché c'è questa tensione che viene disseminata attraverso come dire dei piccoli elementi tensione che distribuisci secondo me adesso queste parole mi vengono però non sono magistralmente secondo me attraverso i personaggi cioè ci sono tanti personaggi in realtà che metti insieme e secondo me nessuno gratuito anche se hanno una parte minore il cugino a New York per esempio lui per esempio mi piace che l'hai notato perché in realtà lui ha una sembra un personaggio in effetti gratuito ma in realtà è esattamente lo specchio del protagonista cioè è l'unico pezzo mancante in una famiglia dove invece tutti funzionano quindi in qualche modo è una prefigurazione del protagonista scusate se parliamo di cose che non conoscete una cosa una cosa che io avrei voluto in questo caso perché questo diventa una brutta presentazione una cosa che avrei voluto è che aveste letto il libro prima allora diventava più non nello specifico la vicenda andando avanti insomma questo ragazzo questo ragazzo perché è un libro va raccontato c'è difficoltà a entrare questo ragazzo che non riesce a stare effettivamente dalla parte diciamo degli ricchi e indifferenti in qualche maniera o neanche indifferenti consapevole che la loro posizione in fondo gli permette certe cose che sono al di là di una morale ristretta che in fondo quella piccola borghese è così è così allora noi rispondiamo lo sillabi se no hai ragione scusami so parlo sempre io poi mi sgridano che hai parlato sempre tu hai ragione scusami scusami sì però ti cercherò di fare domande migliori no no non è quello è indubbiamente così cioè l'idea era anche questa lo dico diciamo così per svelare il dietro le quinte di questo libro che sicuramente ha a che fare con la mia intenzione di scrivere un buon libro ma in cui entrano anche come spesso avviene in questi casi delle cose personali tenete conto che tendenzialmente uno scrive più che per il pubblico che viene dopo scrive per intrattenere se stesso nel senso che poi in realtà il momento importante di un libro è quei tre quattro cinque nel caso mio cinque anni in cui impieghi a scriverlo tutto quello che viene dopo è bello è è lusinghiero come stasera o altre sere analoghe però insomma non è la ragione per cui poi uno scrive libri ma li scrivi perché perché vuoi intrattenerti perché vuoi stare la mattina sulle tue cose e blandirti e raccontarti delle storie credo che questo sia il punto lo è da da Omero fino all'ultimo degli scalzacani e devo dire che ogni volta che scrivo un libro ho in mente delle cose che potrebbero divertirmi stavolta il divertimento era questo cioè l'idea che in fondo io vengo da un milieu che somiglia per alcuni tratti diciamo a quello della famiglia agiata per bene immoralista però allo stesso tempo straordinariamente libertina edonista e via dicendo con tutti quei riti tipicamente della buona borghesia ebraica che è profondamente settaria snob e via dicendo e naturalmente è un mondo con il quale sono in profondo conflitto da sempre sia perché in fondo non ci faccio parte perché sono ebreo per metà e sia perché credo di avere come dire maturato quello spirito critico che spinge le persone per bene a deplorare qualsiasi forma di tracotanza e quindi anche questa e allora siccome l'ho sempre più o meno raccontato dall'interno anche perché poi alla fine gli scrittori insomma seri perdonate l'autoelogio raccontano pochi nuclei che sono sempre gli stessi insomma mi piaceva stavolta in una sorta di proprio di strategia romanzesca provare a vedere quest'ambiente da fuori quindi il divertimento era cosa diavolo sarebbe successo se fossi andato a cena dalla perfida zia Gianna donna di ferocia antonomastica insomma è rimasta famosa per la sua per la sua malvagità cosa sarebbe successo se fossi andato a cena da lei e non nei miei panni ma dei panni di uno sconosciuto che viene in un ambiente completamente diverso e si sarebbe sentito completamente travolto da questo misto di bellezza e ferocia di antipatia però anche di fascino irresistibile e quindi ho pensato che la cosa migliore per dare questa sorpresa al personaggio era proprio quello di costruirli intorno a una struttura vittoriana da romanzo vittoriano in cui c'è un personaggio che nasce in un contesto estremamente quindi non sono gli slam londinesi o neppure certe paludi di George Elliot però insomma come dicevi giustamente Piccolo Borghesi e improvvisamente fargli conoscere la bellezza l'intermezzo a New York da questo punto di vista è veramente splendido nel modo in cui lui rapidamente cerca di imparare quali sono le forme della vita di luce stupito allo stesso tempo però è rapido nell'imparare io trovavo che fosse un esercizio molto divertente direi proprio un esercizio da un punto di vista sociologico e tra le altre cose che corrisponde in fondo al sogno di tutti noi cioè tu improvvisamente stai nella tua casetta miserabile o neanche miserabile però insomma così in media vieni preso da questo signore che è una specie di igiene della lampada che ti porta nel posto più figo del mondo ti fa fare tutto quello che vuoi il turismo di massa vuole che tu vada a vedere tutti i musei lui non ti porta ai musei ma solo a mangiare a fare shopping e l'unico quadro che ti mostra te lo mostra con la grazia di Roberto Longhi in 20 minuti memorabili e dopodiché di nuovo tutti a bere a mangiare a bisbocciare e improvvisamente nasce e questa era un'altra delle ragioni profonde di questo libro nasce quel desiderio ammettiamolo illecito che ciascuno di noi ha avuto di vivere altrove e di emanciparci dai nostri genitori ma quanto sarebbe bello se avessi avuto come genitore che ne so Fabio Capello e che ne sai però e che ne non lo so magari Fabio Capello magari Fabio Capello è un uomo pessimo non possiamo sapere però ti interrompo per dirti che prima hai detto una cosa così a te piace metterci un po' di sprezzatura insomma però che tu scrivi soltanto per il tuo divertimento ci credo fino a un certo punto sarebbe come dire che Proust scriveva solo per il suo divertimento per passare il tempo è vero che è l'eterno intrattenimento abbiamo letto queste cose ma io credo che in Proust sia un profondo elemento di conoscenza e credo che uno che scrive un libro così abbia anche delle questioni di conoscenza da mettere in campo però non è detto che questo non sia divertente no appunto però volevo passare dall'altra parte della questione nel senso che qua secondo me in questo libro c'è una interpretazione o una vicinanza uno scavo e venirne fuori da un'altra parte rispetto a Proust molto profondo ci sono degli ecchi proprio secondo me riconoscibili magari sbaglio e addirittura c'è ancora di più direi c'è Proust letto a ritroso direi cominciando da Philip Roth in modo tale che oggi per esempio leggendo sto libro io ma questa è una cosa forse un po' da critici letterari ma la dico lo stesso ho letto quanto profondamente l'ambiente ebraico la cultura ebraica segnasse la recherche mentre quando l'ho letto a vent'anni non me ne ero neanche accorto però c'è dal punto di vista della conoscenza questa cosa che c'è in Proust perché poi di Proust c'è sempre questa faccenda della Madeleine delle due pietre della memoria involontaria eccetera di Proust che è bello anche da leggere c'è la capacità di leggere la società attraverso i segni sociali tu a un certo punto dici anche esplicitamente e questo mi sembra è anche molto divertente perché divertente interessante intelligente perché dice ogni gruppo sociale ogni famiglia che si ritenga magari un po' no? anche che abbia un suo ruolo ha dei segni di riconoscimento ha dei tic collettivi e quello che è un fattore di conoscenza sociale di conoscenza di saper vivere in un certo modo è anche quello di essere esclusi o inclusi grande tema Proustiano ma inclusi esclusi da che cosa? la capacità di appartenere o di chissà chi poi li fa sul serio e chi li imita sì diciamo che che uno dei temi mai abbastanza sfruttati diciamo dal lettore medio invece la critica l'ha ampiamente attraversato è il tema dello snobismo no? Cos'è essere snob? Noi abbiamo un'idea dello snobismo quando ne parliamo così molto corriva cioè lo snob è una persona che in realtà ha degli atteggiamenti discriminatori che derivano dalla sua presunzione di superiorità in realtà lo snob secondo lo schema Proustiano non è questo è qualcosa di molto più complesso cioè Proust dice e devo dire che questa cosa ha informato tutta la mia vita che c'è un'impossibilità tecnica vivendo nella società di non essere snob nel senso che ci sono vari tipi di snobismo che sono continuamente in conflitto lui addirittura identifica due tipi di snobismo quello degli della classe diciamo borghese che nella ricerca c'è la classe diciamo più bassa che snob agli aristocratici perché vorrebbe essere aristocratic e quindi Madame Verdure parla male dei Germant io non ci andrei mai nelle loro scene roba che si farebbe uccidere pur di andarci e poi invece c'è lo snobismo degli aristocratici che non è meno snob anzi forse addirittura più snob che invece è l'esatto contrario cioè un atteggiamento di enorme considerazione nei confronti delle classi inferiori perché sei talmente superiore che puoi trattarli con condiscendenza il gusto di farsi un panino con la mortadella dopo tante ostre che sciampano è esattamente questo o il principe romano che tratta il portiere con condiscendenza che dà del tuo invece di sprezzare il borghese queste sono tipiche forme di snobismo che però non sono rimaste lì ma che noi ci siamo trascinate qui vi faccio un esempio chi è più snob uno che come diceva Umberto Eco leggeva la sera Hegel per non guardare i programmi di Berlusconi o un intellettuale che guarda i programmi di Berlusconi perché in realtà vuole in qualche modo prendere le distanze appunto con una certa sprezzatura chi è più snob chi è miliardario e va da McDonald's o quello che ha i soldi per McDonald's che vuole andare nel ristorante di lusso è difficile stabilirlo devo dire che queste cose mi affascinano incredibilmente e tra le altre cose visto che in questo libro c'è una specie di Proust ribaltato continuamente nel senso che alcuni stilemi proustiani vengono proprio ribaltati uno che è ribaltato è proprio quello dell'ebraismo perché mentre nella ricerca l'ebraismo è il luogo di massima discriminazione siamo negli anni dopo gli anni settanta l'affaire de la Fus quindi gli ebrei sono feccia Suan che è l'ebreo più chic della ricerca è l'unico ebreo a essere riuscito ad entrare nella giochi club nei circoli iper esclusivi e invece in questo libro è il contrario in questo libro tutti sono sostanzialmente medi e l'aristocrazia è un'aristocrazia giudaica un'aristocrazia ebraica ed è evidente che questo personaggio in cui almeno in questo vi identifico fatica ad accettare l'idea di far parte di questo ambiente fatica perché fondamentalmente è un uomo che lì è un ragazzino ma poi diventerà un uomo che non riesce ad accettare l'idea che qualcuno possa sentire sì superiore agli altri direi che questo è il punto cioè l'idea di sentirsi sempre c'è un continuo gioco gioco a rimpiattine ma comunque un gioco che coinvolge il lettore tra immaginare che questo scritto sia autobiografico e capire che non lo è capisce che non lo è però poi gli resta l'idea di quanto di autobiografico ci sia intanto c'è questa questione che di fatto in un romanzo di oggi raramente si trova quella di un innamoramento diciamo adolescenziale o post-adolescenziale che poi rimane il chiodo fisso di tutta la vita del personaggio e questa è una cosa un po' d'antan un po' d'antan ma funziona nel senso buono cioè nel senso che fa in realtà poi lui sta con questa bellona non è che sta lì a piangerci sopra e basta anzi vorrebbe poi vendicarsi addirittura di questa cosa nel mondo solo che gli rimane proprio questo chiodo fisso che in realtà ha un senso poi nella sua storia personale interiore e risolve e non risolve neanche alla fine il personaggio di Francesca da dove viene fuori diciamo che Francesca è la raccontiamo un momento a un certo punto insomma è la cugina in un certo senso di cui durante il viaggio a New York si innamora e poi lei però prende rispetto alla famiglia tutta un'altra strada in questo un po' speculare alla madre di lui esattamente speculare e a lui rimane però questa cosa qua con un epilogo pazzesco poi alla fine del libro quando dopo tanti anni si rincontrano e lei dirà a lui quello che pensa di lui mentre lui ha sempre costruito un sogno diciamo che che è bello come dire per uno scrittore maschio inventare un personaggio femminile che a dispetto appunto degli stilemi ottocenteschi è molto più intelligente del personaggio maschile insomma nel senso che lei alla fine si rivela uno straordinario spirito critico in qualche misura persino più della madre se ci pensi coraggiosa coraggiosa cioè è lei in un mondo di persone che fondamentalmente mentono lei è l'unica persona che tende a dire la verità in un mondo in cui più o meno tutti fanno la cosa che conviene lei è sempre quella che fa la cosa che le piace insomma che pure riuscire a capire cosa ti piace farlo non è facile nel nostro mondo e soprattutto in quel mondo non solo lei incarna anche appunto spero senza troppe idealizzazioni anche un un ideale che ha a che fare con con la passione del narratore che è la passione per la letteratura e lei a iniziarlo al alla letteratura insomma e e anche qui perché poi come Proust diventa scrittore ovviamente diventa scrittore meno bravo purtroppo però il il diciamo che anche qui la cosa che mi affascinava in questo senso ti parlo di divertimento cioè l'idea di misurarmi con qualcosa che non so fare ma che voglio fare era proprio di riuscire a creare un 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 personaggio femminile che esprimesse una forza una vitalità e una libertà che per me è quanto di più sexy possa esserci insomma nell'altro sesso cioè nel sesso che a me piace a proposito di libertà c'è qualche cosa che affascina i lettori non solo i tuoi ma anche di altri autori che qui è messa un po' al centro a proposito di libertà cioè la libertà che dà il denaro la libertà che dà la possibilità del lusso e quell'altra libertà che uno non sa qual è trovo che viene giocata questa faccenda in fondo siamo molto io come lettore quando leggo quando tu racconti queste cose magnifiche queste persone queste case questo mondo in realtà è questo ragazzo che le scopro con gli occhi del ragazzo dico guarda che bene guarda che bene guarda che bello in fondo però di fatto e senza che vi sia una critica di tipo moralistico oppure appunto però di fatto sembra che ci sia quasi il pericolo che in questa condizione sia messa per assurdo perché uno avrebbe più possibilità quindi più libertà ma che sia messa in dubbio la libertà di più che magari se lo pone il protagonista si pone questo problema sarei stato più libero avessi avuto meno possibilità direi che che è un'idea che 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 mi attraversa perché ho avuto la possibilità nel corso della vita di frequentare diverse persone privilegiate diciamo molto più privilegiate di me per esempio e so che è una magra consolazione però io ho sempre avuto la sensazione di una di una disperazione senza fondo no posso dirti così che per gioco mi capita di guardare su sky quei programmi sui milionari in realtà non sono milionari sono miliardari cioè quelli che comprano tipo i natanti da 300 milioni di euro o che fanno appunto delle vite che non sono assolutamente paragonabili alla nostra e per esempio adesso ce n'è uno nuovo che è su Monte Carlo su chi vive a Monte Carlo sui pochi monegaschi diciamo adottati per ragioni appunto di enorme solvibilità e devo dire che lo guardo con uno spirito che appunto è ambivalente perché un po' simile a quello del mio personaggio perché da un lato tu sei letteralmente travolto dalla spaventosità di questo privilegio da cui sei così drammaticamente escluso no mi ricordo che anni fa per Vanity Fair mi mandò a intervistare Mioncia Prada che è una persona di straordinario e noto e calvinistico understatement e naturalmente dal mio prospetto piccolo borghese non ho potuto farle la domanda delle domande cioè si sui vestiti è tutto bello ma come ci si sente ad avere tutti quei soldi e lei devo dire con estremo garbo un po' snob e mi risponde insomma io vivo in modo piuttosto semplice certo è che se voglio andare a fare colazione a New York il fatto di avere il jet che mi porta per colazione non è male mi sembrava una risposta quella famosa differenza dice i ricchi sono molto diversi a noi si loro noi hanno tanti soldi pare che lo dice Semingway a Fitcher quel famoso dialogo i ricchi sono un'altra cosa sì hanno un sacco di soldi e devo dire che da un lato c'è questa roba qua e dove tra l'altro si accendono in me come dire vecchi spettri socialisti cioè li vorrei a vedere anche quello li vorrei vedere al muro capito mi risuonano vecchi slogan anni 70 insomma oppure la proprietà è un crimine e via dicendo dall'altro però mi consolo appunto nella mia condizione di borghese normale insomma che vive come tutti noi in un ambiente diciamo comodo ma non lussuoso la disperazione cioè tu vedi questi tycoon russi che avendo raggiunto tutto quello che la vita ti può dare hanno la misura se avessero un po' più di intelligenza un po' più di cultura un po' più di sensibilità lo vedrebbero con i miei stessi occhi probabilmente commisurano il vuoto cioè l'idea che si hai una barca da 300 milioni forse puoi comprare una 500 ma poi da 600 a 700 non si finisce mai e c'è questa roba qui ed è ed è qualcosa che dà una vertigine che per me non ha niente a che fare lo diceva anche Dante ah ecco no no è vero però è anche appunto rimane sempre questa narrabilissima ambiguità libro anche seriamente però non ha solo questo diciamo elemento sentimentale poi anche divertente di commisurazione sociale c'è anche dentro la storia perché c'è anche dentro appunto la corruzione c'è dentro la questione ebraica il ricordo e l'atteggiamento che viene coltivato dalla famiglia e invece in confronto agli altri c'è Israele il modello che rappresenta in realtà pur essendo una vicenda tutta intima in fondo è anche una vicenda ben radicata in un periodo e nelle certo non nei riflessi personali che quel periodo sai credo insomma te lo dico anche a te come scrittore insomma credo che non ci sia un modo diverso di raccontare la storia in un romanzo se non attraverso potrebbe essere più semplificato più una sola campana più ideologizzato no 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 invece invece qui ci sono soltanto delle vaghe risonanze poi c'è una mia idea che mi ossessiona un po' che probabilmente deriva dal fatto appunto che ho sul mondo ebraico uno sguardo un po' in tralice perché appunto sono con un piede dentro un piede fuori e cioè il fatto che che nonostante tutto parliamo di una tribù cioè parliamo di qualcosa di profondamente settario e quindi che ha delle connotazioni che hanno poco a che fare con la confessione con la religione con con Dio ma più con l'appartenenza a un determinato ambiente a un determinato milieu questo naturalmente vale per gli ebrei come vale per la ma sempre anche attraverso il personaggio sempre con lo sguardo obliquo sempre attraverso non con il rischio dell'atteggiamento sociologico ma non scherziamo non c'è dubbio non c'è dubbio l'unica roba che mi era piaciuta poco è il titolo di chi è la colpa perché è un titolo diciamo anche un po' di chi è la colpa no poi il libro te lo dice a ogni pagina no? e lo discute a ogni pagina però mi sembra no? di chi è la colpa appunto mettendo in prima non identifichi questo libro con questo titolo poi lo scopri leggendo però la colpa è una cosa oggi che circola come qualcosa appunto che ha a che fare principalmente con il conflitto sociale di fatto sì diciamo che mi ha entro nel mondo pochi abbiano il problema della colpa loro è colpa degli altri è esattamente questo è il punto di chiare la colpa è chiaro degli altri è esattamente però quello che intende il libro nel senso che diciamo questo la colpa è un tema letterario tra i più frequentati però tendenzialmente è un tema che ha sempre un'ispirazione diciamo di carattere metafisico non so pensa appunto a Kafka invece in questo romanzo la colpa assume una dimensione terra terra che tutti quanti noi verifichiamo giorno dopo giorno ovvero sia il fatto che ogni qualvolta avviene una tragedia di qualsiasi natura essa sia c'è un istinto forte in ciascuno di noi che ci porta a identificare un colpevole se non c'è questo colpevole noi improvvisamente sentiamo che quello che ci è capitato per quanto così orrendo non ha un senso pensateci telegiornale è successa una tragedia è morto qualcuno la famiglia della vittima la prima cosa che dice è voglio giustizia voglio giustizia significa voglio un colpevole voglio un colpevole mi verrebbe da chiedere che ci fai con il colpevole non è che tu ce l'hai con il colpevole poveretto o non poveretto in realtà hai l'esigenza di dare un senso a quello che sta succedendo ed è questa la ragione per cui nei nostri tempi ma nel nostro paese in particolare per me soprattutto negli ultimi 15-20 anni le forze politiche che hanno ottenuto un po' di consensi sono quelle che hanno detto votate per me perché non è colpa vostra è colpa loro e noi siamo se votate per noi siamo persone come voi per bene che non hanno nessuna colpa e andremo a cercarli colpevoli andremo a snidarli colpevoli perché ripeto noi abbiamo bisogno di attribuire le colpe e abbiamo bisogno anche di de-responsabilizzarci posso raccontare questo piccolo aneddoto per capire come funziona da un punto di vista psicologico quando ho preso la patente ormai diversi anni fa e Roma è una città naturalmente infernale per il traffico e rimanevo imbottigliato in mezzo al traffico e non c'è nulla di più insensato irrazionale e imperscrutabile del traffico romano e non sapevo chi prete e allora si soffre moltissimo e soffri perché dici magari ci fosse un incidente almeno tutto questo avrebbe un senso ma se invece se invece non c'è niente tutto questa sofferenza che ho avuto e io ovviamente con un vero spirito ebraico me la prendevo con mia madre e diceva questa stronza che non so quale fosse la sua colpa di avermi messo al mondo di avermi comprato la macchina di avermi dato la patente di avermi fatto romano non lo so però tutto questo mi dava un enorme conforto però questo spirito c'è un po' ed è la parte un po' di sugo che addensa si cede di fondo mi sono notato nell'epilogo dell'Iro mi ero notato questa cosa cioè che è una specie di postilla Girard no? Girard dice che cerchiamo un capo espiatorio tu dici che sarebbe anche per gran parte delle cose da fare un passo indietro e immaginare che le cose accadono e accadono anche le cose e le tragedie cioè tutto quello che è la costruzione del libro a un certo punto finisce no? che è una costruzione di una colpa e qua ti volevo chiedere anche che a volte a me sembra una colpa che sia verso se stessi per l'incapacità di essere felice o di voler essere felici ma felice è la parola grossa di accettare la vita o di prenderla anche dal verso che tu stesso vorresti credo credo che che il il problema del protagonista sin dall'inizio sia questo e poi c'è un'altra cosa a cui però ho pensato una volta che ho finito il libro e ho iniziato a lavorarlo cioè il fatto che pensaci io non ho né una grande conoscenza né né mi sento di condividere fino in fondo le cose che ormai più di un secolo fa ha pensato Freud molte cose col seno di poi mi fanno anche un po' sorridere c'era in lui un'esigenza tassonomica che chi conosce la complessità della vita non può non guardare con un po' di distacco però credo che un'intuizione clamorosa tra le tante ma questa è la più clamorosa di tutte l'abbia avuta in un'epoca in cui se ci pensi l'infanzia non aveva nessun senso cioè l'idea che le poche cose serie della vita ti capitano lì e capitano in quel momento e che tutto quello che sei dopo ha a che fare con quel momento se tu hai una tragedia inaudita quando sei un ragazzino come capita a lui non esci non esci più anni fa in un bellissimo incontro in un ristorante con il grande scrittore israeliano Aaron Appelfeld che aveva avuto un'infanzia spaventosa perché aveva perso tutta la famiglia nell'Europa orientale durante la Shoal era un ragazzino ha girato tutta Europa è arrivato in Italia poi è andato verso i vent'anni in Israele e così e lui mi diceva non se ne esce cioè io ho cambiato ho avuto la mia famiglia ho imparato l'ebraico sono diventato un grande scrittore diciamo israeliano tra i più acclamati però sono sempre lì non se ne esce e quindi credo che uno dei temi segreti di questo libro è il fatto che quelle cose che avvengono in quel determinato momento non c'è la possibilità di sgravarsi dalle spalle e che tutte le colpe che uno sente dopo hanno a che fare con quel nucleo doloroso lì e questo capita anche a lui insomma torniamo ai personaggi Zio Gianni Zio Gianni anche lì magistralmente nel lettore proprio con una grande simpatia però anche anche un bastardo il nervoso quello che si dice anche il nervoso è una cosa chiaramente che si rifà a qualche personaggio che tu conosci è una funzione allora direi è inutile dire che un buon personaggio è un mix di persone che conosci questo tra l'altro Proust per esempio lo faceva egregiamente un pizzico qua un pizzico là se ha senso metterla in modo autobiografico diciamo che Zio Gianni è una mix bicidiale tra mio nonno e mio padre che sono due cioè direi non sarei qui se non ci fossero loro non solo in termini biologici ma direi anche in termini i morali nel senso che sono due persone mio nonno non c'è più da tanti anni naturalmente ma sono due persone con una tale presenza scenica con un tale carisma virile che non poteva uscire altro che un un uomo come dire spaventato dal mondo e dalla vita come me insomma almeno rispetto a loro e direi che il modello di Zio Gianni questo modello di virilità charm però allo stesso tempo la cosa che tra l'altro io più detesto negli altri e cioè l'assoluta mancanza di curiosità nei confronti del prossimo cioè direi che il problema serio da un punto di vista intellettuale se possiamo dire e che poi diventa anche morale di un personaggio come Zio Gianni è proprio la sua incapacità di capire gli altri di capire il prossimo ed è una cosa che 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 io non capisco nel senso che tanto mi mi reputo in qualche modo noioso tanto trovo straordinariamente interessanti gli altri non a caso in questo libro il personaggio diciamo di più di buon senso che appunto la cucina Francesca non fa altro che ascoltare continuamente le conversazioni nei ristoranti delle altre persone perché non c'è niente di più interessante ma io ho dei problemi con la mia compagna perché quando stiamo al ristorante insieme non ascolto la mia compagna ascolto queste meravigliose simpatico queste meravigliose persone che sono e li segui dai tutti li identifico tutti gli do dei nomi insomma li adoro no? cioè e ogni tanto ci sono degli scontri che mi fanno ma però che cacchio così allora che ci vengo a fare e ho detto amore tu sei il palo sei come il palo in una rapina no? cioè tu se io guardo queste persone con questi occhi così mi prendono un manieco mi arrestano invece se vengo da solo se vengo da solo e inizio a fare il guardone però invece cosa c'è di più entusiasmante tra l'altro anche nel nostro lavoro no? l'idea di io adoro stare seduto a un bar un bistro eccetera e guardare le persone vivere adoro le città per questo perché ci sono delle ecco diciamo che tornando alla domanda che mi facevi su questo appunto personaggio affascinante arrogante il suo peccato mortale che ha ha uno sguardo spaventosamente introflesso pensa solo a se stesso infatti ha anche dell'intercalare no? quelli che dicono voglio dire voglio dire come se dovessero dire sempre qualcosa oppure quelli che ti dicono c'è anche un famoso scrittore dicono non farò il nome italiano che vedo spesso in televisione molto per bene tutto eccetera perché diceva sempre con frasi del tipo come amo dire come oggi ho detto insomma mi ricordi come oggi ho detto come ho già detto come spesso dico no? cioè come se lui prendesse seriamente il se stesso che dice qualcosa ma chi se ne frega di quello che dice abitualmente dillo e zitto no? però questo dà l'idea proprio di un senso forte dell'io cioè l'idea che tu sei una per me e insomma essendo il mio personaggio questo fragile ammasso di bolezze di fronte a questa forza verile non solo ho un'altra esperienza piuttosto traumatizzante che anch'io ho avuto diciamo quando ero piccolo perché evidentemente sono uscito appunto pudico tra l'altro ero più simile a Woody Allen in una famiglia tutta di belloni palestrati si fa per dire insomma in casa mia giravano tutti nudi giravano tutti nudi c'è questo fino alla decadenza poi si poi non c'è questo fatto della nudità l'essere l'essere nudi cioè io non è una forma di esibizionismo il fatto è che non ho niente da vergognarmi quindi io arrivavo a casa di mio nonno no io stavo a casa di mio nonno almeno non arrivava mi portava in bagno faceva la pipì mentre mi spiegava così è una cosa che non potrei mai fare io di fronte se avessi un nipote eccetera però dà proprio il senso dell'io era anche abbiamo cinque minuti devo farti ancora almeno una domanda vai Proust diventa scrittore e però si vede si capisce dall'inizio tutti quei discorsi sull'arte sulla musica tutta quella sua terribile capacità di interpretare di conoscere tutto non parliamo dei discorsi sulla scrittura poi e questo qua diventa scrittore e si assegna dei tempi moderni coltivando anche un po' di ignoranza vuol dire che è lo scrittore moderno tu non sei così però io sono così ma no ma sono così vai a vedere gli sky eccetera però studi tutto il giorno ma no si adesso però ero ero che lo scrittore oggi diventa scrittore per ignoranza è brutto rispetto alla nostra non so la formazione che lo scrittore diventa scrittore perché accidenti a forza di pensare profondamente l'arte la scrittura la letteratura poi Proust ci dice anche questo è un cammino anche all'interno dell'arte che fa diventare alla fine tu sei scandalizzato del fatto questa zappa a un certo punto credo che sia una cosa artatissima invece e io voglio chiederti la ragione no ti dico invece la ragione non voleva essere nessuna descrizione dello status quo dell'arte era più che altro una cosa che nella quale credo molto e cioè il fatto che una forte vocazione letteraria non ha molto a che fare con lo studio della letteratura e devo dirti che per molto tempo ho avuto dei dubbi sulla sulla genuinità diciamo così della mia vocazione in virtù del fatto che temevo di sapere troppe cose di conoscere troppi dietro le quinte così quindi però questo non è un buono scrittore almeno sentire Francesca da quel che dice lei alla fine questo poi non è diventato uno scrittore particolarmente sì lì c'è il gusto diciamo così irresistibile dell'autodenigrazione però insomma sì però in realtà a questo non pensavo pensavo semplicemente al fatto che buono scrittore o cattivo scrittore poi non è detto che Francesca abbia ragione in lui la vocazione è fortissima e una vocazione fortissima non sempre nasce alla normale di Pisa insomma molto spesso nasce anche in contesti meno intellettuali è una cosa nella quale credo moltissimo non a caso in fondo se ci pensi gli scrittori che amiamo difficilmente fanno i professori gli scrittori che amiamo sono stati medici mondani avventurieri giornalisti cazzari ma difficilmente fanno i professori abbiamo i tempi in cui bisogna anche fare i professori per forza per vivere certo non mi sarei mai permesso di dirlo a te se non fossi stato anch'io un professore no no io lo dico adesso a questo punto direi che ho detto non so abbastanza però non so se a questi qua hanno visto solo la pelata che non è scusate non ho avuto la cortesia di girarmi però preferivo guardare in faccia l'ospite per scogliere poi le movenze perché appena il suo occhio avresse detto no guarda che stai dicendo una stupidaggia io ero pronto a correggermi e a far e a girare la domanda in un altro modo no allora detto questo io ho trovato insomma piacevolissima io la conversazione soprattutto per quel che hai detto tu e del libro posso dire di nuovo quel che ho detto insomma ne parleremo credo parecchio prossimamente di questo libro credo che qualcuno ne parlerà anche male male perché è giusto così è giusto così perché è un libro che non è un libro così che non tocca delle sensibilità o delle idiosincrasie come devono essere in parte i libri e buoni libri certo e però secondo me chi lo legge porta a casa qualcosa sia della piacevolezza della lettura ma anche direi di qualcosa di più perché poi abbiamo parlato di tante cose di fatto però quello di cui non si può parlare che è la sostanza di queste faccende e quanto vi tocchi rispetto alla vostra sensibilità alla vostra diciamo animo si diceva una volta queste cose alla fine non si possono mica dire sennò diventano tristissime mi ha colpito profondamente dentro cosa vuol dire nel senso che mi ha emozionato mamma mia che errore beh è un po' x-factor non mi arriva non mi arriva sì sì allora è una bella passeggiata ecco una bel viaggio grazie tante grazie tante caro grazie a te e grazie a voi di essere venuti buonasera buonasera grazie grazie a tutti